buongiorno guardate che relax oggi santa maria fiume il mio amico andrews la passerella di ceccano il fantastico sole a come ce la spassiamo oggi peccato che tra mezz'ora al lavoro ma non fa niente per questa ultima mezz'ora di relax abbiamo pensato di condividere questo bel sole con tutti voi e di aggiornarvi su un paio di novità che la passera di ceccano che sempre sempre la passera solitaria di ceccano che sta sulla torre il campanile con la gobba no ma lo pubblichi è chiaro che lo pubblico sei penso la seconda presenza maschile più influente di cinque minuti di fatte d'uncull seconda perché in ordine cronologico prima in ordine di influenza seguite il suo canale mi raccomando il canale di fatte d'uncull importantissimo perché così per un miglior benessere giornaliero e poi per restare intonato con i battiti della nota dell'ultimo grido e poi per ascoltare delle buone della buona musica bravissimo e poi come antidepressivo perché lei mi può aiutare molto e poi fammi insegno suggerisci capito quante cose che si possono fare con il canale di youtube di fatte d'uncull seguite fatte d'uncull vedi qui sotto c'è un mi piace la iscriviti lo vedi qui sotto iscriviti e la ti devi fare iscriviti così riceverai le notifiche ogni qualvolta fatte d'uncull carica un video ben diretta grazie 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 grazie